Il nostro paziente è il signor Ambrogio, a 67 anni, si è presentato da noi settimana scorsa con una lombosciatalgia acuta. Non poteva più muovere l'arto inferiore destro, non riusciva a stare su un piede, non riusciva a mettersi sulla punta dei piedi e per camminare strisciava l'arto. L'abbiamo visto rapidamente in due sedute di Pronex Bus Plus, siamo riusciti a sbloccare la causa meccanica che sostanzialmente era un grosso blocco muscolare di tutti i muscoli paravertebrali destri della colonna. Con due sedute di 20 minuti ciascuna a 8 MHz è riuscito a recuperare completamente sia la sensibilità che anche la mobilità dell'arte inferiore. Prima stavo veramente male perché mi sono svegliato una mattina sentendo la gamba destra completamente insensibile. Camminando dovevo trascinarla con la sinistra, appoggiarla e non riuscivo a fare scalini e ad alzare la gamba, a cavallare le gambe se non con l'aiuto delle braccia. Onestamente al momento non sapevo cosa fare, ero un po' nel panico, perché sensazioni mi ritrovate nella mia vita. 5 minuti di caso ho pensato di venire dal dottore almeno per diagnosticarmi se poteva il male che avevo. Il dottore mi ha dato, è stato gentilissimo, mi ha dato subito appuntamento per la giornata in cui mi sono presentato e alla fine con due sedute di Pronexibus che lui mi ha applicato. Ho riacquistato, non completamente, cioè non mi mettevo a correre, però mi facevo gli scalini, a cavallare le gambe, quindi ho una mobilità sufficiente a reambulare tranquillamente come tutte le altre persone. Poi piano piano con un po' di esercizio e con altre applicazioni sono riuscito ad ottenere quasi la totalità dell'articolazione, insomma, e potermi muovere a mio piacimento. Quanto tempo ho passato? Ma, le ho detto, essendo, è stato gentilissimo, mi aveva fatto uno in giornata quando mi sono presentato e uno subito il giorno dopo. Dopo queste due sedute già ero, non dico perfette le gambe, ma quantomeno diambulavo, facevo spavini e cavallavo le gambe tranquillamente. Logicamente non avevo ancora una stabilità che ho quando sono normale, però adesso sono passati forse neanche una settimana e cammino normalmente, insomma. E' rimasto sul disfattolo? Accidenti, crediamo al miracolo quando me l'ho fatta perché onestamente non mi aspettavo che di avere uno riscontro così immediato. Ecco, io pensavo veramente, mi ero visto su una carrozzina o stessa in un letto perché veramente sono cose che ho provato così di botto, si mettono nel panico, no? E' veramente un po' preoccupato. Mi è stato piacevole terapia? No, io dico la verità, è una sensazione di caldo che dà l'apparecchio è veramente buona e quasi quasi mi addormentavo veramente, se ero un po' più lunga probabilmente avrei raggiunto anche il sonno. Grazie. Grazie.